C'è la musica, ci sono i ragazzi, c'è la solidarietà. Quando si parla di donazione si parla anche di sensibilità e di condivisione e proprio per questo vanno coinvolti tutti, a partire dai più giovani. In quest'ottica l'Admo ha dedicato un'intera giornata in piazza delle Ferrarese a Bari per sensibilizzare la città sul tema del sostegno alla ricerca contro le malattie del sangue e per la donazione del midollo osseo. Oggi noi parliamo della donazione del midollo che serve per curare tutte quelle malattie tra cui leucemia e malattie gravi del sangue e vanno a curare quelle persone che purtroppo non hanno più aspettative di vita. Infatti per quest'anno il nostro motto è la cura è dentro di te. Una manifestazione che si è ripetuta in 80 piazze in tutta Italia per la Puglia, anche Sansevero, Brindisi e Lecce e alcuni paesi esteri perché dei donatori non ce ne sono mai abbastanza. Il registro pugliese è sicuramente ad un buon livello ma più ce ne sono e meglio è. Tenendo in conto che purtroppo ogni giorno c'è un turnover di donatori, di iscritti perché per istituzione del registro italiano a 55 anni si decide di ringraziare il probabile donatore iscritto e di metterlo a riposo. Per cui è necessario che giovani, nuovi iscritti si rendano disponibili. Questo per far sì che i pazienti pugliesi possano trovare nell'ambito della stessa regione un donatore compatibile.